Siamo con Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, che saluto ringrazio, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Renzi, parto proprio da qui, la questione del lutto nazionale, una decisione che ha preso il governo ed è la prima volta che viene presa per un presidente del Consiglio che non è stato anche presidente della Repubblica. A suo parere è stata una decisione giusta? Io trovo assurdo che questo paese che ha litigato si è diviso su Silvio Berlusconi, vivo, tra quelli che lo hanno odiato e quelli che lo hanno amato, di un odio ideologico e di un amore folle, oggi debba di nuovo tornare a dividersi per una scelta del governo che è del tutto legittima e rispettabile, punto. Silvio Berlusconi ha diritto ai funerali di Stato perché è un ex premier, poi se vogliono gli ex premier possono rinunciarvi e fare i funerali in forma privata, ma la possibilità dei funerali di Stato non è una possibilità inventata per Silvio Berlusconi, è una possibilità che esiste perché è prevista dalla legge, da una legge dell'87. Il lutto nazionale è stato dichiarato dal governo che può farlo in presenza di personalità istituzionali, è stato fatto per altri presidenti del Consiglio che come diceva lei hanno avuto anche cariche di presidente della Repubblica, cioè per Ciampi e per Leone, però tutto questo è veramente riduttivo, la discussione di quello che non mette la bandiera a mezz'asta all'Università di Siena perché deve farsi vedere come anti-berlusconiano quelli che vanno in televisione ad attaccare Berlusconi, la verità è morto un uomo che ha segnato la storia di questo paese, sia chi gli ha voluto bene, sia chi non lo ha mai votato, oggi abbia il rispetto umano che si deve a una persona che peraltro è stato il presidente del Consiglio più longevo, a me questa cosa fa molto sorridere perché la prima volta che ho votato era il 1994, non ho votato Berlusconi ed era il 1994, però c'era già Berlusconi, cioè nella mia generazione ha sempre avuto Berlusconi sulla scheda elettorale, quando ho iniziato a votare tutto avrei pensato tranne che Berlusconi potesse stare a Palazzo Chigi, più di Andreotti, più di De Gasperi, più di Moro, più di Fanfani, più di tutti, sì, ecco allora abbiamo rispetto per quest'uomo, è stato un grande innovatore, basta con le polemiche e gli anti-berlusconiani, i professionisti dell'anti-berlusconismo, si fermino almeno davanti alla morte, dai, per le polemiche, abbiamo avuto 30 anni di polemiche, per un giorno concediamogli il saluto finale come merita. È indubbio che sia stato un personaggio però particolarmente divisivo, lei in questi giorni ha detto il problema della sinistra è stato concentrarsi su quelle che erano le sue questioni giudiziarie, non diciamo sconfiggerlo sulle questioni politiche, però al contempo in questi giorni lei Renzi parlando proprio di questioni politiche, sta portando avanti molti di quelle che sono le sue battaglie, che sottolinea sono state anche quelle di Silvio Berlusconi, è partito da parte sua un corteggiamento verso gli elettori di Forza Italia? Assolutamente no, nel senso che io sono da 20 anni, no, da 15 anni che sono oggetto delle discussioni su Renzi-Berlusconi, il rapporto, allora diciamola tutta, Silvio Berlusconi è l'uomo che mi ha fatto andare a casa, perché la rottura del patto del Nazareno ha provocato quel clima che poi ha portato al famoso referendum costituzionale del 2016, quindi se devo ragionare dal mio punto di vista, dalla mia esperienza politica, Berlusconi è quello che mi ha mandato a casa, e tuttavia io penso di essere intellettualmente onesto e spero politicamente lucido per dire che comunque fare i conti con una figura del genere non può essere fatta con il criterio dell'odio ideologico, allora Berlusconi è stato uno che ha cambiato la storia della tv, mi piace o no? Ha cambiato la storia della tv, ha cambiato la storia dell'edilizia, ha cambiato la storia del calcio, ahimè io non tifo Milan, ma se fossi stato un tifoso del Milan sarei stato contento per questo, ha cambiato le forme della politica, non sottovalutiamo che i partiti, vecchia maniera, sono stati spazzati via probabilmente più da Tangentopoli che da Berlusconi, Berlusconi è stato un effetto, ma sono stati superati nelle forme, cioè le convention, l'iniziativa basata sulla personalizzazione della politica, allora questo uomo è stato un innovatore incredibile, paradossalmente... Anche il temporarismo, sì, forse il settore nel quale ha innovato meno, questo è un paradosso, dovendogli dare un giudizio scevro da ipocrisie e da, diciamo il clima del giorno dopo, il settore su cui ha innovato meno paradossalmente è stato il governo, cioè lui aveva delle parole chiave della rivoluzione liberale, parole che io apprezzo, cioè meno tasse, cioè più garantismo e non giustizialismo, libertà e voglia di scommettere sul mondo del lavoro, queste parole qui che per me sono parole che stavano bene in bocca a Tony Blair, ma che stavano bene in bocca a Silvio Berlusconi, su queste tre cose è stato molto bravo a teorizzare la rivoluzione liberale, ma la vera contraddizione di Berlusconi è stata non riuscire a realizzarla, paradossalmente potremmo dire Berlusconi è stato molto criticato per quello che ha fatto, ma in realtà io credo che l'elemento su cui lui più di tutti abbia sofferto è su quello che non ha fatto, vale a dire le tasse o la riforma della giustizia. Renzi, logandomi sia a questo sia anche a quanto diceva l'Opappa, le chiedo se a suo parere, tutti le riconoscono di avere un certo intuito per quello che accadrà nel quadro politico, allora le chiedo se a suo parere dobbiamo attenderci un'implosione di Forza Italia prima delle elezioni europee o se comunque ci sarà una spinta anche da parte di Giorgia Meloni per tenere in piedi questa che rimane la forza moderata poi all'interno della sua coalizione. Non sono in grado di immaginare quali scelte farà la Presidente del Consiglio, l'Opappa giustamente faceva riferimento al suo passaggio di oggi, ma insomma mi sembra davvero prematuro e forse anche un po' quasi volgare mettersi oggi a discutere del futuro. Dico tre cose rapidissime per rispondere alle sue domande e ai servizi che abbiamo visto. il primo, Berlusconi che entra nel PPE 1998, sono passati ormai 25 anni, abbiamo qualche capello bianco, è davvero una rivoluzione. Oggi noi sul riformista abbiamo accolto il ricordo dell'uomo che fece quell'operazione, che si chiama Aleandro Agag e che era il segretario del PPE. La cosa divertente, divertente, Aleandro Agag era il capo staff di Asnar, poi diventato segretario del PPE, amava molto Berlusconi, era molto amico di Berlusconi, ma racconta di quando viene convocato al lingotto da Gianni Agnelli, che gli domanda ma state facendo sul serio con Berlusconi nel PPE, sì o no? Perché? Perché Agnelli, che era Agnelli, aveva capito quanto l'ingresso di Forza Italia nel PPE aiutasse Forza Italia. Poi il fatto che abbia spostato il PPE a destra è un'altra storia, ma per dire che quella pagina lì, come ha detto Cohen da Strasburgo, è una delle pagine fondamentali. Secondo punto, che succede? Chi prende l'elettorato? Diceva lo Papa. Posso permettermi di dire che secondo me più che il singolo voto elettorale, perché poi una parte di quelli del 35% che ha votato Berlusconi negli anni d'oro, lui è arrivato al 37% massimo, una parte se n'è già andata. La verità non è il singolo voto, la verità è quella eredità culturale, politica, che io sintetizzo sul tema della tassazione, del garantismo, della libertà, dell'europeismo e per qualche misura di uno Stato capace di fare le cose e non rinviarle. Poi si può discutere di quanto Berlusconi sia riuscito in questo obiettivo, ma la legge obiettivo, ma la lavagnina da Vespa con tutti gli interventi, oggi il ponte rilanciato da Salvini. Ecco, questa eredità qui è un'eredità che starà dentro il pacchetto di norme dell'attuale governo o della polemica politica da qui ad Europa? Sì o no? Questo è il punto fondamentale. Cioè la Meloni, per capire se vuole l'eredità di Berlusconi o no politica, deve innanzitutto sciogliere il nodo se essere un partito garantista o giustizialista. Perché in Fratelli d'Italia convive una importante dimensione giustizialista. Deve decidere se essere statalista o per la libertà di impresa. Ecco, sono tutti temi molto complessi. Terzo e ultimo punto, la domanda secca che lei mi ha fatto, io non so cosa accadrà da qui all'Europea. Ma lo indebolisce il governo, la scomparsa di Europa? Berlusconi e quindi un indebolimento di Forza Italia? È molto difficile capire se... Sicuramente senza Berlusconi è un'altra storia. Ma non è un'altra storia per il governo Meloni, è un'altra storia per la politica italiana. Sono 30 anni che noi facciamo i conti con Berlusconi. Anche quando non vogliamo, abbiamo sempre fatto i conti con Silvio Berlusconi. Per cui il fatto che lui adesso non ci sia più, sicuramente provoca dei cambiamenti. Ma dove questi cambiamenti vadano è da un lato prematuro, dall'altro impossibile da decifrare. Quello che è certo è che lui è stato un uomo che per 30 anni ha unito la destra, ed è stato lui a creare la destra, anche quando sembrava impossibile unire la destra, perché riuscì a mettere insieme con un capolavoro tattico, Alleanza Nazionale al Sud di Fini e la Lega Nord di Bossi al Nord. Ma mi lasci dire, anche unito la sinistra, cioè quando la sinistra ha vinto nel 96 e nel 2006 con Romano Prodi, anzi approfitto per fare alla famiglia di Romano Prodi, ai figli le condoglianze per la scomparsa della moglie di Romano Prodi, Flavia Franzoni, la professoressa Flavia Franzoni, ma quando il centro-sinistra ha vinto le elezioni politiche, il 96 e il 2006, le ha vinte mettendo insieme tutti contro Berlusconi. Poi però non è riuscito a governare, perché quelle dinamiche interne di scontro, che erano in qualche modo sopite dal fatto di essere tutti contro Berlusconi, poi portarono a fare Bertinotti, Ricordiamo, Turigliato. Sono le dinamiche interne anche adesso allo scontro tra le opposizioni, se ci pensiamo. Sì, c'è un passaggio in più, però. Allora Berlusconi metteva insieme quelli pro e quelli contro. Dov'è stata la differenza nostra quando abbiamo vinto le europee? Io cercai di non mettere contro Berlusconi, ma di dire su alcuni temi di Berlusconi portiamo via la bandiera e l'elettorato. Allora era una discussione fatta con Berlusconi sulle tasse, tutte le volte che gli portavo le statistiche che il mio governo aveva ridotto le tasse più del suo, lui mi diceva che non erano vere le statistiche dell'Istat. Ma è un tentativo diverso. Da un lato è giocare allo scontro ideologico, dall'altro dire sui temi prendere l'elettorato. Sono due metodi diversi di politica, io ho sempre preferito il secondo, vedremo cosa accadrà in futuro. Però non è lei il delfino, così ha detto in varie ricarazioni dell'ultime ore. L'ha detto lo Papa, io condivido. Un uomo del genere non ha delfini, non li ha avuti in vita, non li avrà post mortem, nel senso che è uno che davvero è un unicum. Ma guardate che fate i conti, cioè quest'uomo partendo da zero ha rivoluzionato tante di quelle nostre idee di fondo, ma persino nel linguaggio. Se lei oggi dice mi consenta, e tutti in Italia pensiamo a Berlusconi, cioè è un uomo che è stato talmente dentro la nostra quotidianità. Io penso che sia entrato nella nostra vita negli anni Ottanta, più con quando ancora non faceva politica, è entrato negli anni Ottanta con Beautiful e con Milanello, mi spiego, cioè con Mundialito e con Dallas e Drive-In. Berlusconi è entrato nella nostra vita portando un modello, direi televisivo, forse qualcuno potrebbe dire educativo e culturale, non condiviso da tanti, ma ha cambiato intanto la quotidianità della vita. Vedevo l'altro giorno un pezzo fantastico di Benigni, che in queste ore sta ritornando nell'87 ai Telegatti, e c'è Benigni con accanto Mike Buongiorno, che fa la parte del poliziotto buono, e gli dice fai bravo Roberto, e Benigni che urla, Silviaccio dove sei, maledetto, voglio, prendi anche me, compra anche me, e gli lascia il numero di telefono, perché Berlusconi in quella fase, con una grande strategia di marketing, stava portando tutte le star in Fininvest, e Benigni giocava e scherzava sopra, con quell'affetto e l'intelligenza che Benigni ha sempre avuto, di chiedergli perché a me non mi prendi, e poi cercava di baciarlo in bocca, tutte le cose che ricordiamo di Benigni. Che sappiamo e conosciamo.